Hanno preso carta e penna e hanno scritto al Presidente della Regione Siciliana, il Giolese Rosario Cruzette. Loro sono i componenti del Comitato Porto del Golfo di Gela, operatori portuali, pescatori che da diversi anni portano avanti un'unica battaglia, quella di avere un porto rifugio agibile e fuibile con tutti i servizi connessi che un porto richiede. Così come accade in altri siti siciliani bagnati dal mare, perché un porto agibile richiama numerosi fruttori e offre la possibilità agli operatori di lavorarci ogni giorno. E ogni giorno i pescatori possono utilizzarlo, così come i turisti. Ed invece il porto è all'abbandono. A Cruzette si chiede di intervenire per realizzare un porto che sia decoroso per la città. Negli anni, si legge nella lettera, tutti i comitati portuali hanno intrapreso una strada per cercare di spingere la politica a intervenire. Ma la politica ha dimenticato la parola Porto di Gela e, rimarcano i firmatari della missiva, si è solo occupata di industria. Ma il comparto industriale è fermo e dunque ad oggi l'unica alternativa di sviluppo economico per la nostra città è legata al Porto. Caro Presidente, scrivono, non dimentichi l'orgoglio di essere gelese, lo stesso orgoglio che l'ha portata a guidare la nostra isola. Intervenga subito al fine di creare una prospettiva di cambiamento per Gela. Le chiediamo di intervenire con la massima urgenza al fine di far finanziare i progetti da coloro che fino ad oggi nel territorio hanno solo e esclusivamente fatto i propri interessi. I progetti sono pronti. Gela merita di avere una struttura portuale. Speriamo che lei, caro Presidente, non abbia perso quell'orgoglio di essere gelese perché noi non lo perderemo mai. La vicenda del Porto di Gela oramai si trascina da tantissimo tempo. Da una parte c'è un progetto pronto che spetta il finanziamento per diventare esecutivo, dall'altra c'è invece un porto completamente insabbiato e un'economia marinara completamente al collasso. Riunioni su riunioni ma nulla ancora si muove, tutto fermo e chi ne piange le conseguenze sono proprio loro, gli operatori marittimi.